Attenzione, allontanarsi dalla linea gianca, che è la macchina. Attenzione, si rammessa che è andato a aprire le ponte. Grazie. 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 Questa è una cifra, ma è una gran soddisfazione averla, no? Quei bravo, perché è bravo. Grazie. 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 Capito? Milone e nove. 7.000 euro a 9.000 euro. E sono cassaforti, no? Sì. E come sono conservati così bene? Cioè cos'è? Sono ristaurati. Capito? Sì, sì, sì. Capito? Sì. Capito? Capito. Allora? Mi ecco. Come già ci sono? E dice chi? Chi è? È famoso, nonroule, così. Grazie a tutti. 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 Buona mostra. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.